Ed eccolo qui il primo consigliere eletto, Antonio De Caprio. Ciao Antonio. Ciao Martino, ciao ai radioascoltatori. Allora, è stata dura, è stata una campagna sofferta, una campagna che è stata fatta davvero velocemente, poco spazio, poco tempo, però alla fine ce l'hai fatta. Sì, è stata una campagna di giorni utili, ha avuto sia il 9 a 20 giornate, fatte durante le festività natalizie, fatte durante l'inverno, durante il freddo, però sono soddisfatto, al di là del risultato. E ieri, scrivendo alla nuova Presidente, le dicevo proprio questo, sono contento per i tanti attestati di stima che ho ricevuto e che le persone che hanno voluto sostenermi hanno ricevuto sulla mia persona. E queste sono le soddisfazioni che ancora oggi chi fa politica riesce a togliersi. Beh, male non è andata a livello di preferenze perché comunque ho visto, insomma, sono oltre 3.000 preferenze nell'intera circoscrizione nord. C'è da dire che comunque anche l'astenzionismo si è fatto sentire? Sì, l'astenzionismo si è fatto sentire, l'affermazione per un sindaco di un borgo come quello di Orso Massa è importante, però questo mi carica ancora di più di responsabilità per il futuro. E infatti proprio da qui io volevo partire, cioè è davvero una rivincita, al di là del colore politico, è una rivincita soprattutto per un piccolo territorio, per un piccolo borgo e soprattutto per un territorio come l'altro Tireno Cosentino che di rivoluzioni ne ha sempre vinte poche, ne ha fatte e ne ha vinte poche. È vero, è vero. Questa è una rivincita che io voglio portare avanti insieme a tutte le persone di buona volontà. Mi permetto già oggi di fare questo appello a tutti coloro i quali hanno a cuore questa terra di rendersi disponibili al cambio che dobbiamo mettere in campo dal giorno in cui saremo proclamati. Bisogna lavorare per ridare opportunità, l'ho detto durante la campagna elettorale, non ci siamo candidati per piangerci addosso, ci siamo candidati per ridare fiducia ed ottimismo. E questa è la missione che porteremo avanti durante i nostri cinque anni. Quindi a tutti coloro i quali vorranno aiutarci, sostenerci, dare un contributo, sendersi parte attiva di una rinascita, di un territorio come la riviera dei Cetri, del Pollino, di questa terra meravigliosa che non deve invidare niente a nessuno, io sarò lì ad accoglierli e a lavorare insieme. Ecco, di questo incarico invece che cosa ti fa paura più che altro di queste investiture? O meglio, c'è logicamente la tensione, ora devi dimostrare in poche parole. Diciamo che lo assumo come ho assunto la prima volta il mandato da sindaco, con tanta responsabilità. Mi sento sulle spalle una responsabilità che va al di là del normale, però sono sicuro che con la serietà, con la lealtà, con l'educazione, che non deve mai mancare, neanche durante le competizioni elettorali e con la propensione verso un futuro migliore e verso il sostegno al territorio, credo che si possa affrontare di tutto. Se c'è poi la solidarietà da parte di, ripeto, le persone di buona volontà che in questa riviera dei Cetri ancora ci credono, io credo che qualche risultato a casa lo possiamo portare.